Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo una serie di libri, di manuali dedicati alla microscopia. Abbiamo un libro dedicato alla stereomicroscopia, quindi il microscopio stereoscopico. Poi abbiamo un libro dedicato al microscopio ottico, biologico. Poi un libro dedicato alla storia della microscopia. E agli schemi ottici, al microscopio in generale e alla fotografia attraverso il microscopio. E poi un altro libro dedicato al microscopio digitale. Allora, vediamo prima un libro dedicato al microscopio stereoscopico. Questo microscopio è facile da usare e sarebbe il primo microscopio da acquistare. Lavora a bassi ingrandimenti e permette di osservare gli oggetti nella loro tridimensionalità. Lo usano i restauratori, gli entomologi, per chi deve guardare fiori, insetti, i mineralogisti per guardare i minerali, per guardare monete. Lo usa chi deve lavorare in elettronica per fare le saldature. Ha tanti impieghi ed è facile da utilizzare. Microscopio stereoscopico. Ci sono vari modelli. Ci sono anche dei modelli che costano veramente poco. E questo libro vi spiega i concetti e come funziona un microscopio stereoscopico. Adesso passiamo a un manuale dedicato al microscopio biologico. C'è una parte introduttiva dedicata alle lenti di ingrandimento e dopo si passa al microscopio biologico. Questo volume invece è dedicato alla storia del microscopio. Sono presentati tanti schemi ottici, perché i microscopi non sono tutti uguali. E poi è spiegata la fotografia al microscopio. È veramente un bel volume, molto ben dettagliato e ricco di informazioni. Finiamo con un libro dedicato al microscopio digitale. È un microscopio che si utilizza inserendo l'USB nel computer ed è valido per osservare superfici piani. Quindi trovi impiego in tutto ciò che è piano. Quando dobbiamo apprezzare invece la tridimensionalità di un oggetto, si preferiscono altri tipi di microscopi. Come ad esempio il microscopio stereoscopico. Buona lettura e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Grazie. Grazie.